Il parco Dubini, dopo il ritrovamento delle bottiglie a quanto pare contenenti solo acido muriatico, il direttore dell'Asp ci spiega che il parco è ancora fruibile e che è già stato adoperato tutto ciò che è necessario per poter rimuovere le bottiglie. Il parco è tutto fruibile, c'è soltanto una piccola area dove sono state riscontrate, con i lavori che sono stati fatti per l'ulteriore pulizia del parco Dubini, diverse bottiglie vuote che abbiamo accertato di essere acido muriatico e quindi è stato disposto il sequestro di quest'area. Noi già stiamo procedendo con una ditta specializzata, con il massimo delle cautele a rimuovere queste bottiglie vuote e evidentemente accerteremo se per caso c'è qualche altra cosa, però mi sembra che sia un allarme che rientri completamente, considerato che si tratta di essere acido muriatico, che è qualcosa che viene utilizzato comunemente nelle case di tutti noi e viene messo anche negli scaffali dei supermercati. Se dovesse essere realmente soltanto acido muriatico è stato un falso allarme.